L'amministrazione comunale ha deciso di istituire un nuovo parco per i ragazzi ad Albignasego. Nel nostro comune ci sono molti parchi attrezzati per i bambini. Abbiamo appena fatto un investimento importante per rimetterli a nuovo e comprare nuove giostrine. Mancava però un parco, soprattutto nel centro del comune di Albignasego, un parco per i ragazzi più grandi. È così che sorgerà la prossima primavera, nell'area compresa tra la caserma dei Carabinieri e la scuola Bonetto, un parco per ragazzi nel quale ci sarà una piastra polifunzionale per il basket e la pallavolo, una piastra per lo skateboard e un campo da calcetto in erba con un percorso di collegamento tra le tre strutture. È un'opera che è stata richiesta dopo una raccolta firme di più di 300 giovani del nostro territorio e anche nel corso degli incontri del bilancio partecipativo. Diamo in questo modo una risposta ai ragazzi un po' più grandi del nostro comune. Questo parco sarà collegato con il parco dei più piccoli di via 16 Marzo attraverso tre strutture gazebo dove potranno essere festeggiati anche i compleanni da parte delle famiglie che portano i bambini nel parco dei più piccoli. Grazie. Grazie.